e tra quanto è il film? top 4 simone con attacco on titan contro dosso con abyssal fleet dosso si dura violentemente però si merita di perdere perchè si merita di perdere male e oggi dosso mangerà dei suoi figli dosso merita sempre il video all'inizio c'è lo scherzone gioco 2 si non è gioco 4 è divertente stavo pensando di mettere in terzo scherzone scherzone è una carta con soprannominato scherzone ah lo scherzone è quella di abyssal quella zero lo mette sotto se metti lo stop lei si 2 devo bruciarla quella carta imbannatela immediatamente 8 telecamera scherzone vai sotto ti ha fatto lo scherzone dobbiamo fare montaggio questa lui mette pezzo questa qui la butta sotto se ho 1 o meno davanti 2 vedete che fai gli ho messo la 3 lui ha la carta sua se ha 1 o meno davanti carta in coppia la carta dell'opo va sotto il mezzo e gli togli una carta e gli ammazzano un pezzo infatti quando lo metti in campo quella gli togli un pezzo è come dire ma però deve essere costo zero inferiore deve essere costo zero inferiore il 500 generico a tutte ma togli sempre un pezzo quando entri in campo uno scarti uno costo zero inferiore togli pezzo un pezzo specifico o corso corso attenzione quando fai questa cosa perchè Ale lì viero è tipo allergico ti ricordi l'altra volta hai scambiato il mazzo con la mano ma io mi ricordavo che hai fatto lì è stato un bel clima vorrei essere andato un grande scherzo ma dai rifacciamo quindi una mille e una più fatta si e un mezzo due e mezzo si va bene va bene va bene va bene tanto ormai lo scherzo non fa più la vega una volta che è entrato questo è un scherzo scherzo è boa fuori di due è un po' la stazione non mace le resta 3 bene la gioco un bel non mace all'altro che tre quando attacca no 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 ok esco blocco esco 1 2 gioco lei paguno mi faccio un danno tuttora lei non ha nessun effetto non può sideare e quando me lo mandi in reverse puoi prendere un personaggio e me lo metti in 5 ah ok chi è che deve essere in clock se c'è la 1.0 in clock è buono è buono si è dov'è? voglio e li tappi in mille dai 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 2.000 giusto non le vedi allora prendo lei non neanche ridischiare la gioco pago uno scarto tutt'ora oh ecco che lei è 2.500 facciamo così qui passo dalla climax gonfio di mille vuoi rannare? attacco prima di qua per uno uno non ok intervallo eh pausa 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 pescicciamo capo esplorando il carpmelo quante cose che facciamo moriremo spagli e poi ammigli spettacolo pago due numero 1 vabbè 5.5 5.5 Grazie a tutti. Loro sono quelle che si gonfiano... Allora, quando in combo, attacco, baguno... Quello che salveggia Eren? Ok. E se hai un Eren si gonfia di 1500. Ma alla fine cacciano il giorno. Dei gusti, bus. Uno. Niente. Vado. Adesso. Aspetta. Come le vedi adesso? Buonissimo. Si può. No, ancora. Ma si gonfiano? No. Carta rossa in stock è un saluto. No. Ne avevi una? Ne avevi una? No. Si, ne avevi una. Si. Avevo. Pronto. Avevi giocato la tizia? Ho pescato. Ho pescato. No. Avevo uno. Con il flop ho pescato due. Ho pescato due. E l'altro che si fa. E l'altro che si può fare con la scelta di cimera. No, così. E l'altro che mi costruisce la scelta di cimera. Sì. Pogliate qua? Si. Pogliate qua. Sì. Pogliate qua. Se non due. Due. Ok. Cosa fissi? Prevo. Quanti? Si. Quante grosse? 5. Posso rimettermi in cima un pezzo. Qual è la 1-0 che io non so se ce le ho, non ce l'ho. Spicchio, potrebbe essere sopra? Sì, ruolo. Gli effetti dal cimitero? La line non ne ha. No. Potrebbe essere... Sì. E... Spicchio. Due e due. Va bene? Quindi due. Si, si, si. Si, si, si. Sì, Max. No, solo personaggio. Ma una volta che Loppo voleva essere generoso. Ma poi... Mi sono anche disperato. Sì, non c'è. 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 Cosa fa la guerra? Allora, si attacca diretto, passa a mille circoli al props e fa il reverse con la scuola. Ok. Due. Due. Vesco. 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 oriented. Entra, guarderò la prima, se ha avviscolto il flick ca il suo scarto. Direi che non ha avviscolto il flick. Che pare... hardestolo. Allora non so quanto il Loft. Passo dalla Climax con Fedimille, loro sono uguali giustamente, con Fedimille quella in centro, attacco così, mi riprendo il backup, da 2000, cioè 1000 più 1000 sono almeno le campi saltino, sono due, tre, attacco, mi prendo il back, eh scusate, la Climax, sono due per scherzo, attacco, ci penso, riprendo Akatsuki, faccio un danno, due, tre, tre, e poi pure, lo sono adesso, se ne hai delle otto, perchè la è la più 500 più ottima, d'accordo, adesso, ok, questa va giù, la pagina, 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 il portaf Navago, la pagina, la pagina, la pagina all'interno termine, la pagina, o' se ne ho lungo volti, èиях variousi, e allora, sesto signora è Cosa fa lei? Sono dentro a cura, prendevo 500 per ogni legge Quindi io ho 10.000 Sono 10.000 Sono 10.000 Sono 10.000 Sono 10.000 Sono 10.000 Sono 7.500 Sono 10.000 Quindi cominciamo 1.000 per 2 Porco Dio Vito 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 Passa 1.000 Posta 500 Sì A tutti No A 1 No Da più 1.000 a tutti E poi ok Allora 7.500 8.500 9.500 10 Sì Sì 2k Andiamo Ed è uno Quanto è uno? Sì Aspetta questa è verde Sì 3 Sì 3 Ok 3 3 e spazio 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 e spazio